Ciao a tutti, da Mr. Graucio Romano, ossia Emanuele Rauco, per questo nuovo punto di vista settimanale. È stata la settimana della notte degli Oscar, se volete metto qua sotto il link per riascoltarla tutta commentata da me e dai pazzi di Popcorn da Tiffany. Questo punto di vista non è per parlare degli Oscar, è per parlare di due film che sono usciti nelle sale in questo periodo, di cui uno ha vinto tre Oscar, tra cui il principale Oscar, quello per il miglior film, 12 anni schiavo, Steve McQueen, e l'altro è un film che invece è stato clamorosamente snobbato dagli Oscar. In realtà gli Oscar è solo un misero pretesto per metterli insieme, questi due film, non è che ci entrano veramente. A proposito di Davis, dei fratelli Coen è il secondo film, quello snobbato. Perfetto, detto questo, li metto insieme perché sono due film che sono usciti da poco e mi aiutano. Non è tanto una recensione di questi due film, le recensioni di questi due film ve le metto qui, una qui e una qui. Sono due film che mi sono piaciuti molto, sono due film che reputo molto belli. Quello dei Coen è il naturale proseguimento di un percorso di maturazione e anche di essiccazione del loro cinema, sempre più essenziale, sempre che va sempre più a fondo della storia e della cultura americana. Non per questo non parlando dell'oggi, anzi raccontando una storia di un pertente molto attuale, così come molto attuale, molto contemporaneo, che che ne dica qualcuno, e anche 12 anni schiavo, che è interessante perché questo video artista, questo regista innovativo, a tratti molto sperimentali come Steve McQueen, si confronta con una storia più classica, con temi più classici, più fruibili al grande pubblico, ossia schiavitù, libertà, eccetera. Come queste due cose si mescolano insieme. Mi interessa parlare e mettere insieme questi due film, intanto per notare che sono due film che sono piaciuti molto. Parlo dell'Italia, 12 anni schiavo è incastato molto anche in tutto il pianeta, ma mi interessano molto per l'Italia perché sono due film poco avvezzi al cinema italiano, uno parla di musica, di musica americana, di folk americano, folk new yorkese, l'altro parla di schiavitù e ok, ma con un linguaggio molto particolare, cinema d'autore con dei tempi molto precisi, con delle scelte estetiche anche difficili per un pubblico. Eppure sono due film che hanno incassato, relativamente al tipo di film e al tipo di investimento, molto bene. Penso che a proposito di Davis è stato visto da molte persone, soprattutto la prima settimana ha fatto le sale piene dove era stato proiettato e si è fermato a poco più di due milioni di incassi, che va bene per un film del genere. Ancora più sorprendente invece è la cavalcata del film di Steve McQueen, che incassa tantissimi soldi, sono due settimane, anche tutti i giorni incassa, l'Oscar fa molto incassare e sono due film che sono anche molto piaciuti al pubblico. Se per il film dei Coen, in questo senso, il pubblico del film dei Coen è in un certo senso il pubblico che ama i Coen, è un pubblico critico, esperto di cinema, appassionato e quindi ci sta che il gioco, come posso dire, che ci sia un'unione di intenti tra critica e pubblico, mi stupisce invece come il pubblico abbia molto apprezzato 12 anni schiavo, e lo dico perché sono incassi che non sono relativi ai primi giorni, sono incassi che durano da un paio di settimane, e invece l'Italia è l'unico paese in cui il film è stato abbastanza maltrattato, non dico generalmente, dico che però molti, soprattutto tra i più giovani, hanno storto il naso. È questo che mi fa fare un po' di riflessione. Innanzitutto su quelli sono i punti del film, perché sì è un film che parla di schiarismo, sì è un film che racconta, se non una storia, dei temi già visti, già raccontati, da Spielberg in primis, ma anche al suo modo da Tarantino, il racconto secondo me in modo nuovo. Innanzitutto il punto di vista è nuovo ed interessante, interessante, ossia quello di uno schiavo, di un nero che non era uno schiavo, era un uomo libero che viene tutto schiavo. Questo già porta lo spettatore a riflettere su qualcosa di fondamentale, non si nasce schiavi, si nasce liberi e si diventa schiavi. E' qui che credo che il film faccia un salto, raccontare una storia che sembra di 200 anni fa e che invece può diventare assolutamente attuale. Questa schiavitù e il modo in cui McQueen trasmette le emozioni è estremamente attuale e lo fa in un modo estremamente attuale, con un uso della regia, di tempi lunghi, di inquadrature lunghe, di induggiare su alcuni dettagli. Qualcuno ha detto è un film ricattatorio. Come fa ad essere ricattatorio un campo lungo di 3-4 minuti in cui c'è solo un personaggio fisso? Come fa ad essere ricattatorio dei primi piani in cui non accade nulla, ma accadono delle minime variazioni di volto sulla faccia del protagonista? Ecco, credo che 12 anni schiavo metta in luce alcune delle grandi contraddizioni della critica italiana, ma anche del modo in cui si sentono, si percepiscono i film. Si valuta un film sulla scia di qualcuno che l'ha già valutato. Questo è anche colpa del fatto che i film escono spesso molto dopo e quindi si ha già un'idea di come questo film viene valutato. Ma in molti hanno valutato il film perché era stato candidato a 10 Oscar e quindi deve essere un capolavoro. È come se Oscar fosse necessariamente sinonimo di qualità e quindi 10 Oscar uguale a 10 capolavoro. E no invece, perché poi invece il film vive di altre cose e quindi si pensa a un capolavoro e poi magari se non lo è diventa brutto perché ci aspettavamo di più. Ma poi ho sentito raccontare delle cose sul film prima di averlo visto, per esempio, dare così tanto oro al fatto che il regista sia un nero. È la prima volta che un nero racconta la schiavitù in un film. E questo come dovrebbe cambiare il fatto che il film sia bello o brutto? Io sono d'accordo che il genere... Cioè non siamo ancora in una società post-raziale in cui possiamo fregarcene del fatto che Steve McQueen sia un nero che fa un film su questo discorso. Ma non possiamo però ridurre tutto a questo. Dobbiamo capire che invece attraverso quel tipo di messa in scena, attraverso quel tipo di racconto, Steve McQueen ha raccontato ben altro, ha raccontato la società della cultura, ha raccontato il protagonista è un violinista, come la cultura, come l'arte liberino la vita anche prima di liberare dalle catene. Questi temi sono stati tutti appiattiti in bene o in male da qualcosa che non ha a che fare con la critica, ma ha a che fare, ed è in Italia, i giornali lo dimostrano, con qualcos'altro, con il colore, con il sentito dire. Invece, se ci si perdesse un po' più di tempo a non pensare che quel film è il miglior film per l'Academy, ma è un film che dice qualcosa, qualcosa di bello, ecco, e questo poi mi ricollego anche al video che avevo fatto sugli Oscar e su quelli che sfogano negli Oscar tutte le rabbi di una vita, manco fosse una partita di calcio, questo la dice lunga su come è ridotta la cultura in Italia e non tanto la cultura, la riflessione sulla cultura, l'intelligenza in Italia, ecco. E quando in questi giorni con La Grande Bellezza tutti hanno parlato del film e tutti hanno detto quello che potevano, va bene, il problema è che quando c'è gente che dovrebbe alzare il livello e dice delle cose oscene che va un po' meno bene. Ci ho infilato i coin a forza perché comunque mi piaceva metterli, mi piaceva far notare che questo film è molto bello ed è una grande con una sonora, però in realtà il video era su 12 anni schiavo, vabbè, vi ho fatto un tranellone. Grazie mille, domani, o comunque a brevissimo, i consigli della settimana, il cosa, 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 e poi con i ritratti di storia del cinema su Alfred Hitchcock e poi un nuovo punto di vista la settimana prossima. Ciao a tutti!